Eccoci, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla nostra live numero 97 del podcast di Psynel. Poco fa vi ho lasciati con l'immagine della sedia vuota, mentre io correvo a prendere il pacco di Amazon. E forse mi avete anche sentito che offendevo il tizio. E' un problema. Eh sì, eh sì, eh sì, assolutamente, assolutamente, anzi ho appena visto che un amico mi sta scrivendo, mi sta scrivendo, pensavo a Genna che partissero delle... Ed effettivamente è andata così. Io non so se qualcuno di voi ha ascoltato a distanza o se si è sentito, il ragazzo ha suonato il campanello di Amazon tre volte. Io ho risposto, mi fa, allora ti lascio il pacco qui? E io ho detto sì, mi lasci il pacco lì e la prossima volta che vieni qui suoni una sola volta, ok? Suoni una sola volta? Così gli ho detto, eh così ragazzi, io sono brutto e cattivo. Buongiorno Stefania, buongiorno Marta, buongiorno Lacma, buongiorno Melissa, benvenuti e benvenute alla nostra live che oggi appunto è particolare, è di venerdì. Per cui adesso piano piano, con calma, vi chiederò di mettere mi piace, di condividerla e di aiutarmi. Anzi, visto che si parla di condivisione, io inizio a condividerla, anzi la condivido fin da adesso, di modo che, insomma, questa è una roba che non faccio mai, invece dovrei farla. Sono stupido, sono stupido, perché è importante invece riuscire a condividere, riuscire a condividere, ecco qua, live, mi vedo, ci vedo, copia, andiamo su Telegram, che noi abbiamo un bellissimo canale di Telegram, che ultimamente sto aggiornando con robe super interessanti e che appunto mettiamo qui, perché ci vuole seguire online, dal vivo. Anche a me fa incacchiare quando suonano troppe volte, assolutamente, io glielo dico, guarda che non c'hai bisogno, non hai bisogno di suonare tre volte, non hai bisogno. Ti sento, arrivo. Ma anche se suoni una volta, io ci metto un po', è perché mi devi dare il tempo, non è che io sono lì pronto per scattare e venire ad aprire la porta. È chiaro, tu suona una volta e aspetta con pazienza, perché mi dà davvero fastidio, se suoni tre volte di seguito. Ok, voglio vedere, vengo, dimmi dove abiti e all'improvviso, in modo completamente casuale, te lo faccio tre volte, voglio vedere. Voglio vedere, lo capisco, sono stufi, lo capisco, fanno un lavoro snervante, lo capisco, lo capisco. Però, insomma, spero che chi era live e ha visto la sedia vuota, spero che non si, spero che non abbia visto esatto. Beh, assolutamente, infatti Aurora è quello che sto dicendo, magari sta facciando di corrompere una sinfonia, di comporre una sinfonia. No, sono d'accordo Aurora, però io glielo dico, se suoni una volta sola per me è meglio. Se avete ascoltato nella live, se avete ascoltato nella live, insomma, se si è sentito, fatemelo sapere, sono stato anche gentile. Non è che gli ho detto, brutta testa di cazzo, cosa suoni il campanello tre volte. Gli ho detto, per piacere, suona una volta sola. Non solo snervante, non sono nemmeno pagati. Aurora, qua dovremmo discutere, eh, su questo. Dovremmo discutere, insomma. Io sono d'accordo con te. Si è sentito? Porca cazzozza. Amazon ti spia. Oggi è venerdì, non giovedì. È un complotto. Ottimo. Brava Sara, è vero, mi ero dimenticato che di solito arrivano giovedì. È un complotto, è un complotto. Ci spiano. Eh sì, ho pensato la stessa cosa, ma è giustamente. Bravi, siete ottimi, ottimi osservatori. Cazzo mi hanno detto che si è sentito. Porca, cosa hai detto al Corriere? Eh sì, si è sentito? Era brutto? Glielo ho detto male? È stato percepito male? Si è visto tutta la mia cattivere, Anna? Che dici? Che dici? Devo cancellare? Beh, intanto la live la cancello davvero da Instagram. La pre-live, ve lo faccio sempre, quindi. Don't worry, a cancellarla, però. Però prima di cancellarla voglio vedere cosa si sente, ragazzi, perché. Ecco, ho visto, facciamolo insieme, perché io sono. Buongiorno Giovanna, sei stato pacato e gentile. Ah, ok, allora posso tenerla, dai. Allora posso tenerla. No, è perché quando interrompi la live, ti resta come, appunto, la cosa interrotta. Però poi c'è un tastone rosso che ho scritto, vuoi davvero, 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 davvero interrompere la live? E quello non l'ho cliccato. Per cui me ha colpa. Allora, ragazzi, l'argomento cappello di oggi è ancora la fallacia del talento. Perché? Perché è un tema di cui abbiamo parlato in passato. E ieri stavo facendo un'immaginina, sempre del passato, dedicata a questo tema. E mi sono chiesto, ma perché questa roba non la insegnano a scuola, a scuola, alle medie, alle medie, ma magari alle superiori, ma insomma, per capirci. È quel meccanismo che molti di voi già conoscono e funziona in questo modo qua. Allora, esperimento. Prendono due tracce musicali, prendono dei gruppi di persone e gli dicono questa canzone, questo brano, è stato composto da un bambino di sei anni. Un genio, evidentemente. Proprio tutta un'opera complessa, eccetera. Quanto ti piace da 0 a 10? Poi prendono la stessa identica canzone, la stessa identica opera, la stessa identica melodia, ci siamo capiti, composizione, ecco questo è il termine adatto, e la fanno ascoltare a un altro gruppo di persone e gli dicono questa composizione è stata fatta da un noto compositore tedesco di 60 anni. Valuta da 0 a 10 quanto ti piace. Ebbene, quella, qual è quella che vince ragazzi? Qual è quella che vince? Beh, quella che vince, quella che vince in assoluto, a mani basse, quella fatta dal bambino. Cioè noi siamo terribilmente attratti dall'idea di magia, terribilmente attratti dall'idea di psicomagico, terribilmente ci piace, ci piace l'idea che ci sia qualcosa di magico in quella cosa lì, mentre in realtà dovremmo osannare la fatica, lo sforzo e la preparazione, perché è questo che rende grandi gli esseri umani, le società, eccetera. Non il colpo di culo, ma il farsi il culo, perdonate la terminologia. Quindi non il colpo di culo, ma farsi il culo dovremmo insegnare ai nostri figli, non insegnarli che, o meglio, non andare dietro questo bias, questo è un bias. Tutti siamo affascinati dalla... e qual è il bias, ragazzi? Pensateci bene. Belin è facile. Il bias è sempre lo stesso, è il nostro cervello ligure, è il nostro cervello tirchio, che appunto immagina quanto sarebbe bello se all'improvviso, con lo schiocco di dita, potesse fare A, B, C e D, potesse sviluppare quel talento. È molto più affascinante pensare che esista una persona che in fondo, in fondo, ha un talento magico, ha un talento speciale. Proprio ieri leggevo uno studio super interessante condotto da Gottman. Gottman è questo esperto delle coppie, no? Ultimamente te ne parlo tanto perché sto studiando tanto il suo modello. E a un certo punto lui ci parla di uno studio super interessante dove lui e sua moglie hanno esaminato sia le persone e sia i terapeuti nell'analizzare che cosa? La capacità di, osservando una persona, capire se questa persona era entrata in quello che lui chiama stato di floating. Quando ci incazziamo, perché questo stato di floating è correlato al battito cardiaco. E loro dicono, quando il tuo battito cardiaco arriva sopra i 100 battiti al minuto, se è giusto, ecco che arriva il floating. E quindi questo stato dice, ci siamo chiesti, ma le persone sono in grado di capirlo? La risposta è no. E anche le persone molto sensibili sono in grado di capirlo? La risposta è ancora no. Ed è questo uno dei motivi che mi ha allontanato tantissimo da tutta quell'idea di calibrazione, linguaggio non verbale tipica della mia matè, del mio mondo. Io ragazzi ci ho fatto dei corsi, ho fatto dei corsi di calibrazione e di stare attenti al linguaggio non verbale, ai cambiamenti posturali, a cambiamento del colore della pelle per capire se la persona era entrata in trans. Tutto molto affascinante, ma tutto molto aneddotico, perché quando tu lo metti sotto il microscopio dell'empiria, cioè fai un esperimento e vedi se le persone sono realmente in grado di essere più brave del caso a osservare certe cose, scopri che non è così. Anche quello è un po' una fallaccia del talento. Questo non significa che non si possa approfondire, migliorare la nostra capacità di osservare il non verbale degli altri, di capire certe cose osservando determinati dettagli. Questo è utile. Però basta toglierci dalla testa che esista un Lightman che ti guarda e capisce tutto, oppure che esista un Milton Erickson, ragazzi, perché Milton Erickson era intanto famoso proprio grazie a questa sua abilità magica di capire le persone guardandole. Ma oggi sappiamo che questo è poco probabile. Eh, lo so che questa roba qua fa arrabbiare tutti i miei colleghi. Ma come io? Ma che diamine io? Io sono studiato... Eh sì, è così. La ricerca dice così. Poi noi possiamo lavorarci, possiamo impegnarci, poi sicuramente. Buongiorno Sabrina. Ciao Luca. Vedo già una domanda. Quando sono con la mia fidanzata, e penso a quando ha fatto sesso con una persona che conosco prima che stavamo insieme, mi dà fastidio tanto tanto e finisco per incazzarmi. Mi viene di nascosto di guardare il suo telefono. Eh no, non devi controllare. Eh, non devi controllare Luca. Vai a ascoltare la puntata sulla gelosia. Buondì a tutti. Ciao Alessio. Genna, ho sentito la live con Rick bellissima. Siete troppo forti. Grazie Alessio. Ho visto, abbiamo fatto ultimamente una bella live con Riccardo Dalferro. Con Riccardo l'abbiamo fatta davvero tante. Io vi invito a seguire Rick Duferro perché per me è uno degli intellettuali del web più importanti. Oggi, ragazzi, guardate. Guardate la qualità. È davvero bravo. Mia figlia si infastidisce quando viene definita talentuosa perché sostiene che la gente parta dal presupposto che a quei livelli ci sia arrivata senza farsi il mazzo. E fa bene Stefania. Fa benissimo Stefania. Perché questa è l'idea. L'idea è tu sia beato te. Beato te. Guarda, bravo Gianna. Tu si sente che tu hai una parlantina particolare. Complimenti. Complimenti. Si vede, eh beh, non tutti nascono con il tuo tono di voce. La tua capacità di usare pause, intonazioni e bla bla bla. Eh, sì, vabbè, ho registrato 500 audio per il podcast. Quella roba lì. Vai ad ascoltarti il primo, la prima audio newsletter. Poi vieni qui e ascolta come parlo oggi. Non è un caso che parli un po' meglio. Perché ne ho fatte 500. 500. Di più di 500. Oltre a migliaia di interviste e bla bla bla. Insomma, oltre al fatto che è il mio lavoro parlare. E quindi è naturale che io parli decentemente. Ecco, non bene, decentemente. È allenamento. Non è predisposizione. Poi chiaramente ci può essere una parte di predisposizione. Però dobbiamo insegnare davvero ai ragazzi, dobbiamo insegnarli questa differenza. Voi avete inconsapevolmente la predilizione verso le cose magiche, verso il talento innato. In parte perché è una scusa che vi dice, vabbè, io non sono nato col talento, per cui, perché impegnarsi? In parte è una scusa. E in parte è perché ci piace questa idea magica. Che qualcuno abbia il potere dentro e noi possiamo ammirarlo. Anzi, ragazzi, la cosa che leggerete nel post di oggi su Instagram, vi invito a mettere mi piace, così come potete mettere mi piace in questo momento, che è importantissimo, perché, appunto, uscendo di venerdì avrà meno reach, quindi se mettete mi piace mi aiutate tantissimo. Ecco, così come in quel post io vi racconterò una cosa pazzesca. Questa fallaccia del talento arrivava un tempo a farci desiderare di stare accanto a persone portafortuna. I famosi, io porto bene, stai con me, io porto bene. Questa cosa qua è una cagata mai vista. Io porto bene, ma diamine, io porto bene, stai con me. No, io voglio stare con uno che non ha raggiunto ciò che ha raggiunto perché porta bene, ma perché è bravo. Allora, se sei bravo, io non vedrò l'ora di starti accanto. Se sei bravo, io ti starò accanto e questa cosa mi aiuterà perché se sei bravo nel mio mestiere automaticamente per un fattore di imitazione, di risonanza, di neuroni a specchio, io imparerò qualcosa. Se sto accanto a uno che porta fortuna, io non imparo un bel niente. Io non imparo un bel niente e non serve a niente. Non ho capito perché non riesco a mettere mi piace. No, Aurora, come no? No, come non riesci a mettere mi piace? Bisogna fare qualcosa qua. Bisogna fare qualcosa. Immediatamente. Red Light è un film datato, ma magari in tema, di questi studiosi che vogliono svelare chi dice di avere superpoteri come il mentalismo. Non l'ho mai visto, non l'ho mai visto, lo guarderò. Però il mentalismo, Anna, non è proprio... Quelli che fanno mentalismo non dicono di avere poteri. Quelli veri che fanno mentalismo dicono che loro fanno finta di avere dei poteri. Ok? Cioè, questo è il mentalismo, è fare finta di avere dei poteri. Nessun mentalista vi sa leggere nella mente, ma neanche da lontano, ve lo posso assicurare. Andate a cena con il più grande mentalista che conoscete e mentre lui parla ditegli vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare. Vi assicuro che non se ne accorgerà minimamente. Voi vi sentirete un po' indispettiti, ma lui non si accorgerà che voi state pensando a quella parola lì. Ok? Ve lo posso assicurare e non guarderà i micromovimenti della faccia intuendoli. È una cavolata. L'ho detto tante volte, ci ho fatto dei podcast e invito qua qualsiasi mentalista a dire il contrario. Il trend attuale consumistico esalta queste cazzabubbole. Assolutamente Luca, hai ragione. Sono fuori con i nanetti. Ascolterò dopo, Noemi, perché l'argomento è interessante. Grazie Noemi. Mi sorge una riflessione. Giovanna, porta aperta, prego. Parole sante, collega. Grazie Eleonora. Io ieri, scrive Sabrina Ciccarelli, collega, io ieri ho sentito la puntata del podcast di Gianluigi Ballarani dove parla insieme a Andrea Giulio Dori e Luca Mazzucchelli. Fantastici. Grazie. È stato davvero emozionante ascoltarvi interagire e sentirvi parlare dei nostri cari argomenti. Ah, grazie Sabrina. Sì, è bella. La puntata l'ho messa nel mio canale di Telegram al quale vi devo invitare io. non c'è il link, però sapete che forse da qua posso metterlo, invece da qua posso mettere il link al mio canale di Telegram perché in realtà mi basta fare così, mi basta andare su Telegram mentre sto con voi, andare su Subscribers, Invite via link, invita via link, ok. Copiarlo, credo di averlo copiato, poi entrare qua nella nostra chat da Orco Cane, Orco Orco Cane, non può, non può, non si 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 può, accedi dai, dai dai dai, Orco Orco, accedi, ok, ci sono, no, ho sbagliato, ho sbagliato, invia il link, ok, copiato, arrivo ai ragazzi, così avete, avete anche la puntata dei, avete la puntata e anche gli aggiornamenti per iscrivervi al canale di Telegram, perché no, fine, non me lo fa inviare, perché, vabbè, non me lo fa fare, la riga, non me lo fa fare, non me lo fa fare, fine, non so perché faccio, tipo invio, ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, qua sotto potete iscrivervi al mio canale di Telegram, e potete anche ascoltare così questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Gianluigi Ballarani, Andrea Giulio Dori, Luca Mazzucchelli, e abbiamo parlato appunto di crescita personale, tra l'altro c'è stato anche un siparietto interessante, ascoltate, eh, 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 allora, Sara, a proposito di talento, come gestire l'ansia della cufene? so che tu ce l'hai, eh sì, eh sì ce l'ho, ne avevi parlato, quando lo senti e come lo gestisci? Lo accolgo semplicemente Sara. Ovviamente bisogna fare tutte le analisi, ragazzi, io ho scoperto apertamente che il mio acufene è legato a, ad una sorta di, a una forma di bruxismo, a una forma di, di grigno i denti di notte, sì, nonostante io mediti, lo sai, di grigno i denti di notte, in particolare da una parte della mia bocca, dalla parte destra, ed è, ed è super meccanico il mio acufene, tanto che io finché non mangio durante la giornata, o meglio, finché non mangio e non parlo per tanto tempo, non mi parte. In questo momento non c'è l'acufene, ad esempio, ad esempio, eh, finché non mangio, finché, finché insomma non muovo la mandibola, non mi parte l'acufene. Quindi, però, quando mi parte Sara, prima fai l'analisi differenziale, e poi dopo medita, medita, porta l'attenzione sulla cufene, fai diventare l'acufene, parte della tua pratica meditativa. Genna, scusa, è possibile che persone che ti conoscono bene, tipo i geni, aiuto, tipo i genitori, o amici stretti, ti categorizzino di essere un tipo di persona, ma tu senti di non esserlo? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Leonardo, buongiorno Genna, buongiorno a tutti. Ciro, ma quelli che ti toccano un punto della testa e ti fanno dire o fare ciò che vogliono, come fanno? Sono cose vere o è show? È show, è show ed è finto. È show ed è finto. Ciro, devi ascoltare la mia puntata sull'ipnosi. L'idea di quel tipo di ipnosi, fatta in quel modo lì, è davvero una barra, è davvero finto. Ragazzi, io ripeto, se quel tipo di ipnosi, quella da palcoscenico, quella magica che vedete, fosse vera, fosse vera, e funzionasse davvero così bene, tutti i miei colleghi userebbero solo quella come forma di psicoterapia. E invece, quel tipo di ipnosi non funziona come tecnica psicoterapica. Perché? Perché in realtà si fonda su dei giochi, su dei giochi ti danno l'illusione di avere quel grande potere. È davvero così. Io ripeto, la sfida ancora con gli ipnosi, io ho sfida con i pianellisti, con gli ipnotisti da palcoscenico. Se sapete fare quelle cose lì, vi mando io un vero paziente, curatemelo. Non funziona, lo so, non funziona, oltre al fatto che avete paura, perché sapete che è pericoloso. Questo significa che siano cavolate? No, non del tutto. Certi tipi di ipnosi suggestiva sono molto utili in medicina, sono utili nella sperimentazione, sono utili per la costruzione di scale di suggestionabilità, sono utili ad esempio nella performance, negli sport. Possono essere utili come forma di intrattenimento, ma non come forma di terapia. Ok? Ne abbiamo parlato, abbiamo proprio fatto delle puntate. Io ho trovato la 56 di 6 anni fa, va bene Luca, fai quella. Genna ha una domanda, perché non inseriscono materie di psicologia già alle scuole elementari? Che ne pensi? Allora Alessio, io non lo so se alle elementari sono abbastanza maturi, io credo che alle elementari potrebbero inserire dei proto-elementi di psicologia, come già stanno facendo, lo stanno facendo ragazzi, ad esempio gli stanno insegnando che cosa sono le emozioni, gli stanno insegnando il valore della gratitudine, della gentilezza, stanno insegnando cose del genere. E poi, secondo me, da lì in poi, dalle scuole medie, si può iniziare a fare, così come, io lo ripeto, io alle scuole medie, a educazione tecnica, ragazzi, Belin, in Liguria, come molti di voi, ho studiato l'alto forno. Ve lo ricordate? Si studiava l'alto forno, perché era uno dei modelli massimi di tecnologia, come si fa l'acciaio con la ghisa, come funziona con l'alto forno, il carbon cook, chi è che si ricorda queste cose, chi ha la mia età se lo ricorderà. Ora, così come in un tempo si studiava l'alto forno, io mi auguro che oggi si studi l'HTTP, il web, l'HTML e cose del genere, sicuramente, insieme, bisogna metterci un pizzico di psicologia sin dalle scuole medie, secondo me, e poi, magari, alle scuole medie fai, non lo so, un'ora di psicologia e tecniche di studio, visto che il futuro di quelle persone lì sarà studiare per altri dieci anni, minimo, allora, perlomeno, facciamo psicologia e tecniche di studio, cose del genere, ok? Quindi, inserire un po' di queste cose qui lentamente, perché, secondo me, ormai, la psicologia, quella vera, non la filosofia della psicologia o la storia della psicologia, non la filosofia della psicologia, quindi, capire, esiste o non esiste, quella roba lì la lasciamo alla filosofia che è bellissima, ma, i risultati degli esperimenti empirici comprovati della psicologia, quelli potrebbero essere insegnati, a partire dalla psicologia sociale, che ci aiuta a diventare esseri umani migliori, comprendendo i fenomeni del pregiudizio, i bias impliciti, il fatto che tendiamo a avere in-group e out-group, cioè noi contro di loro, meccanismi di inclusione ed esclusione, la paura di essere esclusi, la FOMO, come la chiamano oggi, ecco, tutte queste cose qui potrebbero migliorare significativamente la società. Ah, ma la tua domanda era diversa, Alessiera, perché non riescono a mettere le materie psicologiche, cosa ne pensi? io credo che sia perché il nostro sistema scolastico è ancora antico, è ancora antico, non è mai stato riformato per davvero. Aurora, rifletto sul talento e mi chiedo se si può applicare in tutto questo di cui stiamo parlando. Faccio un esempio, io sono negata per il disegno e ho sempre pensato che sia un talento innato. E allora, Aurora, ti invito a fare una cosa, vuoi scoprirlo? Vuoi scoprirlo? Dedica, prenditi due ore alla settimana, spezzettate come vuoi, quindi anche dieci minuti al giorno e ti metti su YouTube e ti guardi i tutorial di chi ti insegna a disegnare. Non sto scherzando, vai su YouTube e guardati i tutorial di chi ti insegna a disegnare. Torna qui tra un mese e dici quanto sei migliorata. Questa è l'unica maniera che abbiamo per capire se sei davvero negata. Sara, medito con clarity, come faccio a portare l'attenzione sull'acufene? Rimpiazzo il respiro con l'acufene? No, 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 devi farlo in modo senza clarity, devi farlo. Leonardo, perché si dice che il perfezionismo porta a immobilità di agire? ma se comparato per esempio ai quadri di Da Vinci e alle sculture di Michelangelo quel tipo di perfezionismo è visto come una cosa sublime ma Da Vinci non era per niente perfezionista Leonardo, fa ridere, Da Vinci non era per niente perfezionista Leonardo, quindi no, allora si dice che c'è una paralisi dell'analisi quando tu analizzi esageratamente qualcosa e fai meno. La differenza è questa, la differenza è che bisogna agire e quindi ti deduco che tu sia un perfezionista devi imparare ad agire Leonardo come faceva il tuo omonimo il tuo omonimo era talmente un cazzaro che era talmente un cazzaro nel senso che non era un perfezionista che ha fatto impazzire tutti voi lo sapete che con l'ultima cena l'ha dipinta tantissime volte ha fatto incazzare tutti perché entrava dentro faceva un pezzettino e andava via ok e non era perché fosse perfezionista poi non è attenzione essere perfezionisti non vuol dire essere non vuol dire essere non so come dire tendere al miglioramento Leonardo tendeva al miglioramento quindi di volta in volta aggiungeva dei particolari ma non in senso perfezionistico quel perfezionismo che mi impedisce di andare avanti se non ho fatto tutto lui era proprio il contrario lui riusciva a lasciare una roba a metà e poi andare a farne un'altra e quella roba lì non finirla mai ci sono guardate cercate Leonardo da Vinci storia guardatevi i video su youtube oppure leggete la sua storia e scoprirete che non era per niente perfezionista poi cercava di migliorare le cose questo è un bel esempio Leonardo mi ha dato un buon cibo per la mente cioè è diverso avere il piglio per cercare di migliorarsi costantemente ed essere perfezionisti il perfezionismo è una paralisi dell'analisi analizzo talmente tanto quella cosa che tendo a bloccarmi e non agisco più non agisco perché ho paura di sbagliare in poche parole ho paura di fare una cavolata Leonardo era il contrario lui prima sparava e poi prendeva la mira ok cioè quindi è proprio il contrario ci sono scuole di pensiero che sostengono che basta la volontà l'impegno per raggiungere i livelli di eccellenza della serie allenandoci possiamo essere tutti maradona credo che sia un'idea un po' fuorviante posto che a mio avviso il talento sia una scriminante importante ossia ai blocchi di partenza non siamo tutti uguali altrimenti si crea la falsa convinzione che tutti possiamo fare tutti che ne pensi? allora Giovanna io penso che sia vero quello che stai dicendo ma sia molto peggio il fatto che nel tuo cervello ci sia scritto che il talento è nato cioè nel tuo cervello e questa è la fallaccia del talento c'è scritto che il talento è innato e questo è molto peggio del credere che puoi fare tutto non è vero che puoi fare tutto è vero che puoi migliorare in tutto è vero che le abilità innate cioè la fallaccia del talento è dare di nuovo credito all'impegno non al fatto che possiamo fare tutto c'è una predisposizione genetica noi siamo anche genetica c'è poco da fare è così assolutamente così tuttavia non è nel nostro controllo quella cosa lì Giovanna non possiamo farci niente non possiamo migliorare niente se crediamo che derivi da un talento innato e invece non è così non è così e la ricerca ce lo prova ci prova che persone che non sembravano per nulla talentuose quando si sono messe davvero ad approfondire quella cosa lì sono poi diventate talentuose con questo non dico che tutti possiamo diventare Van Gogh tutti possiamo diventare Maradona o tutti possiamo diventare quello che vogliamo tutti possiamo diventare chi siamo e però tutti abbiamo un enorme potenziale ai blocchi di partenza siamo tutti diversi è bene che ci sia tale differenza tale diversità ma credere che la genetica vinca e che i talenti più importanti derivino da qualcosa di magico o meglio è come dire che i talenti derivano da qualcosa di magico o sei fortunata o sei sfortunata a me questo modo di vedere le cose mi sembra fortemente limitante più limitante del minchione che dice se vuoi puoi tutto non è vero che puoi tutto però se vuoi puoi migliorare tantissimo ecco questo è il mio pensiero fai bene scrive Luca fai bene a insistere su questa tematica del tutto facile subito è un cancro della società in questa lotta ovviamente non sei solo c'è anche il mitico Mazzucchelli e tutti quelli che reputo validi specialisti e che stimo grazie mille è una crociata tenete duro e nel mio piccolo faccio di tutto per diffondere il verbo grazie mille Luca sono 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 d'accordo l'alto forno è vero ti ricordi Alessio come c'è l'alto forno il diagramma del ferro mamma mia ferrite cementite sì che mi ricordo vedete ragazzi che cazzo studiavamo mio figlio alle medie studia come si crea la carta zero materie aggiornate che miseria sti programmi ministeriali che schifo Sara che tristezza la carta come si fanno le tavolette d'argilla per i caratteri cuneiformi video tutorial video tutorial Alessio mio nipote che frequenta le elementari ha visto sul mio comodino facci caso e mi ha chiesto cosa fosse ho risposto che era un libro di psicologia lui che cos'è la psicologia esatto sarà un bambino sicuramente intelligente nota le cose importanti allora benissimo circondati da cervelli genovesi Alessio noi tutti abbiamo il cervello genovese noi tutti tutti quanti per questo dobbiamo combattere per questo dobbiamo dobbiamo portare un altro verbo il Dalai Lama si impegna scrive Sara nel portare nelle scuole l'intelligenza emotiva ed educazione emotiva chissà se tra 30 anni vedremo anche qualche aggiornamento ci sta ci sta e sì la psicologia sociale scrive Leonora sarebbe tantissimo utile per rendere più competenti da un punto di vista relazionale le persone sin dalla giovanità assolutamente pensa gli fai l'esperimento di Stanford gli fai vedere grandi esperimenti che cavolo sono talmente belli che ci hanno fatto i film cioè vabbè genovesi popolo di conquistadores conquistadores assolutamente come anche il portoghesi bene allora mi devo anche studiare storia dell'arte Leonardo comunque grazie per rispondere a De Nala ho visto bambini disegnare in maniera stupenda quella è genetica ah sì sì ma infatti non stiamo dicendo che non esista la genetica ragazzi la genetica esiste ed ha un'influenza potente tuttavia dobbiamo anche riconoscere che dovremmo studiare bene cara Aurora perché io vi leggerei allora tutti sono convinti che Mozart sia nato imparato e invece non è vero niente ragazzi il papà di Mozart ok ha cercato innanzitutto voi immaginate che nascere in un ambiente dove tutti suonano e le tue due sorelle suonano tuo papà è un maestro di musica tuo papà il papà di Mozart è il primo inventore di un metodo per insegnare la musica ai bambini non so se sei chiaro il papà di Mozart ha inventato un metodo per insegnare la musica ai bambini ci ha provato prima con le due sorelle più grandi di Mozart ottenendo dei risultati e con Mozart ha fatto bingo perché Mozart si vede che era un po' più predisposto ma se non avessero avuto casa pianoforti clavicemba gli strumenti l'idea il papà maestro di musica tutto il giorno musica nelle orecchie e l'idea che la vita sia musica sarebbe diventato Mozart io non credo quei bambini che dici tu Aurora bisognerebbe andare a vedere bisognerebbe andare a vedere cosa è successo a casa loro bisognerebbe andare a vedere se per caso hanno uno zio artista che tutte le stati li ospitava e davanti a loro dipingeva o semplicemente le storie dei genitori che gli raccontavano quanto fosse importante l'arte per loro cioè l'ambiente è più potente e soprattutto ci dà potere personale non significa che la genetica non esista ma significa che se releghiamo tutto alla genetica sono guai tra l'altro la genetica è influenzata direttamente dall'ambiente cioè gran parte della genetica si esprime o non si esprime in base all'ambiente insomma è un discorsone ah ho risposto ad Alessio che chiede di insegnare psicologia nelle scuole non lo so Aurora stai dicendo un po' delle cose che non mi piacciono te lo dico ciao Pamela ciao Jenna quando una persona ad un certo punto incontra delle problematiche fisiche molto importanti e non riesce più a credere di poter avere una qualche competenza o talento come può essere aiutato quando una persona ad un certo punto incontra delle problematiche fisiche beh quella è un'altra è un'altra questione questa qua Pamela cioè che non c'entra con il nostro discorso quindi è ciao Simona buongiorno Simo quindi come dire e non riesce più a credere di poter avere se ha delle problematiche fisiche e beh deve poter sentire di poter continuare a crescere in quella cosa lì nonostante la problematica fisica quindi servirà un accompagnamento forse psicologico in base alla problematica fisica importante vedete qualche anno fa io ho avuto a che fare con un ragazzo che aveva una malattia genetica molto potente aveva una cosa al cuore ma una roba gravissima tipo una roba gravissima e lui voleva fare voleva giocare a palacanestro nella vita caro aveva 14 anni quando me l'hanno portato e insomma ci è voluto un bel po' di tempo per per aiutarlo a insomma serve un percorso Pamela serve un percorso ciao Peppe a proposito del talento dove trovo le live con Andrea Biasci del project Invictus allora Peppe credo o sul sito di di Andrea Biasci o sul allora o sul quindi o sul come si dice sul coso di di Andrea Biasci quindi sul 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 canale su Instagram credo di Andrea oppure dovete essere iscritti all'acropoli Invictus nel senso che alcune di queste le ho fatte le ho fatte le ho fatte gratuitamente ma poi finiscono nella loro acropoli cioè nel loro nella loro membership però dovrebbero esserci eh ci sono ragazzi eh già però fare una suite a sette anni non è una cosa da tutti Buck era super dotato sì Ciro ma anche altri non è che stiamo non stiamo dicendo ragazzi c'è super dotazione sicuramente ma stiamo attenti di nuovo a non confondere capite sono proprio questi miti che ci portano lontano dall'idea che è importante impegnarsi è sbagliato dire che se ti impegni diventi maradona ma è sbagliato allo stesso tempo dirti che non importa se ti impegni tanto non sei geneticamente predisposto e questo è il punto capite non voglio essere estremista non sono estremista né in un senso né nell'altro non credo che la genetica determini tutto anzi mi fa schifo questa idea e non credo neanche che il talento possa farti fare tutto assolutamente no però capiamoci è molto meglio spostare l'asse visto che il nostro cervello è naturalmente attratto dal talento questa è la fallacia del talento questo è il bias visto che naturalmente portato per quello dobbiamo ribilanciare le cose ribilanciare le cose altrimenti ci saranno continuamente persone che ti dicono eh mi dispiace ma suo figlio non ha la stoffa così disse l'almeatore di calcio ai miei genitori suo figlio non ha la stoffa avevo sette anni ho fatto due allenamenti non ha la stoffa capite? non è così esattamente Leonora siamo un mix di predisposizione e ambiente uso spesso l'esempio di Mozart impegno batte predisposizione 10 a 1 io sono d'accordo Luca sono d'accordo guardate guardate esattamente vedi Barbara tira fuori Denada Pamela Barbara tira fuori una cosa molto interessante la definizione di genetica dice che le donne non sono capaci di fare un sacco di cose ovviamente non sono d'accordo lo sapete che per tanti anni si è creduto che voi donne non foste capaci nella matematica e invece siete bravissime Stefania per rispondere ad Aurora mia figlia disegna molto bene da quando era piccola ma ha proseguito e ha potuto migliorare perché è stata stimolata ed ormai da anni che si allena io ero brava da bambina ma adesso non so tenere la matita in mano perché ho mollato anni fa sta qui la differenza il talento puoi averlo ma deve essere coltivato dai ci sta ci sta Stefania sono d'accordo con te testimonio ho fatto l'artistico e solo grazie alle ore passate a ricalcare riviste fumetti dei tre anni milioni e milioni di ore poi non continuando a coltivare la dote e ora faccio l'operaio mannaggia i genovesi bellino Alessio bellino Alessio immagino ah i like scrive Lobby ciao Lobby dai sì mettiamo tutti quanti like ora posso andare sì il tuo compito è terminato Lobby sì caro supereroe ciao caro per lavoro non riesco più a seguirti in diretta non ti preoccupare bene significa che stai lavorando ed è un'ottima cosa quando si lavora è sempre bene quindi ragazzi il mio non è uno sguardo non è uno sguardo assolutistico assolutamente no cioè ci tengo a dirvelo è chiaro che la genetica esista è chiaro che dobbiamo studiare dobbiamo anche riconoscere le parti genetiche che abbiamo e anche accettarle in certi casi ragazzi sapere questa cosa un po' ci manleva di responsabilità ma un po' ci un po' ci aiuta perché ragazzi nuovamente quella storia di nuovo ho scritto una frase qualche giorno fa su Instagram la vado a pescare perché anche quella è bella sapete sapete che le le cose mi vengono fuori un po' così tra virgolette ed è impariamo a valutare le persone in base al loro percorso da dove sono partite non dove sono arrivate questo è fondamentale cioè io stimo di più una persona che che magari è partita che oggi guadagna 30.000 euro all'anno ma è partita da meno 100 cioè nel senso che non aveva niente ha dovuto pagare debiti e debiti magari della famiglia magari magari ha fatto difficoltà per vari mille motivi che non una persona che guadagna 300.000 euro ma è un figlio di papà perché se sei un figlio di papà non si può fare il paragone è la stessa cosa della genetica qua no? non so se riesco a mostrare bene questo parallelismo ma se tu sei nato che hai hai capito che hai c'hai la fabbrica c'hai la casa già pagata le scuole già pagate e quando finisci di lavorare c'è già lo studio aperto magari con i parenti che fanno il tuo lavoro e ti mandano i pazienti o ti mandano il lavoro è diverso che arrivare da un ambiente completamente diverso farsi il culo e arrivare a guadagnare 20, 30, 40, 50 mila euro al mese rispetto a uno che guadagna io guadagno 5 milioni di euro c'ho la barchetta sì perché perché il mio padre aveva la fabbrica questo non vuol dire che chi l'imprenditore è stupido cioè beato lui fa bene anzi fa bene quello lì però tra i due a me piace più il primo mi piace più il primo perché è più umano è più vero mi sento le ore stritese più umano più vero scusate a me piace più il primo e il secondo secondo me se non si impegna adeguatamente è solo uno che si adagia sugli allori beato lui bravo sono contento per lui va benissimo che uno nasca con questo vantaggio in più però non facciamo il confronto il confronto non si può far vero io asino e matematica mia nipote di 16 anni genietto allo scientifico ottimo quello che penso dice Simona aspetta aspetta che mi sono perso un pezzo melissa successe pure a me con l'insegnante di tennis non sapevo giocare non mi faceva giocare io non vi dico io ne ho tante così ne ho tante così perché eh così perché io non sono io io la vedo così perché non sono nato talentuoso non mi hanno mai detto che avevo un talento insomma finché non sono cresciuto forse da adolescente il talento per la musica ma è un'altra storia quello che penso è che anche prima di parlare di talento scrive Simona è necessario tenere conto delle condizioni di contorno e delle opportunità magari sarei potuta diventare una grande ballerina ma nessuno dei miei ha mai tenuto conto della danza come una mia possibilità ne ho mai avuto l'opportunità diretta di provarci esattamente Simona esattamente Luca ciao Genna saluti da Praga oh che figo personalmente penso che il ruolo della psicologia sia sottovalutato non solo nella scuola ma anche nell'ambito del lavoro una conseguenza che riscontro giornalmente un anno fa mi sono imbattuto nel libro di David Rock sul funzionamento del cervello in contesti lavorativi cosa ne pensi fantastico fantastico secondo te la conoscenza delle dinamiche psicologiche legate al feedback o alla pressione sociale può aiutare i manager a gestire meglio i propri team facci caso è un libro semplicemente stupendo grazie grazie a te Luca grazie mille aiuto che rumore era grazie a te mille grazie mille assolutamente sì io continuo a lavorare per le pippero io continuo a lavorare per le aziende in modo molto proficuo e mi piace l'idea che anche piccoli interventi di un'ora due ore tre ore all'interno delle aziende possano fare scattare i click in qualcuno non è che deve scattare in tutti i click che deve scattare in qualcuno questo vi ho raccontato anni fa vado a tenere questo speech di presentazione per tenere dei corsi per un'azienda gigantesca forse tra le prime dieci italiane forse europee azienda enorme e vado a tenere questo speech direttamente nella loro sede privata quindi una sede che sembrava di essere in un castello arrivo lì giusto per darvi un'idea vabbè nella provincia di Milano vado lì entro dentro trovo tutti questi uomini tutti uno tranne una donna una simpaticissima tra l'altro e trovo tutti questi uomini il capo è un signore simpatico con i capelli bianchi sorridente gli altri sembravano è un campo molto maschile ok questo ve la metto così io parlo e gli parlo di gentilezza di queste cose qui di gente vedo che ci sono alcuni di questi che mi guardano come per dire what the fuck cosa stai dicendo io ho voglia di hai capito tu mi devi insegnare come tirare il meglio fuori dei miei operai che lavorano nel fango altro che gentilezza finisce lo speech mi prende da parte il capo e mi dice devo dirle una cosa il suo intervento mi è piaciuto molto io sono un ex militare ho lavorato ho scoperto a livelli altissimi sono un ex militare quando l'ho sentita parlare di gentilezza ho pensato no questo non c'entra in niente con la mia vita ma poi ho messo da parte il pregiudizio ho ascoltato tutto il suo intervento e ho capito davvero grazie questo sono convinto che ci aiuterà tantissimo capite ho stato fortunato ho acceso la persona giusta però questa cosa qui secondo me ha una ripercussione a cascata in tutte le persone giuste che ci sono intorno cambia un po' la mentalità e visto che le aziende sono dei sistemi basta che cambiamo alcuni elementi di questo sistema che ha una ripercussione sull'intero sistema stavo proprio pensando al post su instagram esatto Eleonora infatti parlo proprio di quello pipero più umano più vero è un ballo sincero anch'io Genna tra 5 minuti scappo ho una giovane mamma che mi aspetta per un sostegno approfitto per dire forza mamme non mollate forza mamme e auguri papà oggi che oggi è la festa del papà Eleonora Luca è proprio parte del nostro lavoro nelle organizzazioni sono psicologa del lavoro proprio per questo brava Eleonora diglielo diglielo diccelo diccelo a me invece hanno sempre detto di avere il talento incredibile di rompere le balle Simona ma no dai Simo non è vero che rompi i balle almeno con me non sei rompi i balle Sara Genna tu hai il talento della chiacchiera che a scuola ti avvantaggi ti dà e ti è valso qualche vantaggio lo dissi tempo fa assolutamente Sara sì è vero è vero lo ammetto lo ammetto lo ammetto ragazzi io ho io ho proprio l'esempio paradigmatico allora io a un certo punto cambio scuola cambio cento scuole però a un certo punto ne cambio una l'ultimo tra il quarto e il quinto anno di superiori la mia scuola fallisce al quarto anno l'Enrico Fermi di Alassio scusate il Bartalini di Alassio fallisce al quarto anno e io vado l'Enrico Fermi di Albenga con tutta la scuola quindi tutta la mia classe e tutta la mia scuola si trasferisce in un'altra scuola capretta un po' media capretta arrivo in questa scuola facciamo degli esami per verificare la qualità e non so come mai e come perché in questi esami vado molto bene faccio un tema e mi da dieci la prof di italiano da quel giorno in poi la prof di italiano mi ha amato alla follia insegnava italiano e storia la scena è questa questa qua quando gli facevi girare le scatole interrogava ok quindi tu eri lì che chiacchieravi impazziva interrogava chi stava chiacchierando anche quattro persone insieme tu adesso Romagnoli tutti quanti qua che vi interrogo e ragazzi visto lei mi amava ok quindi questo è il presupposto questa donna mi amava profondamente lo so perché quando vabbè per ve lo racconto ma mi amava in senso platonico come studente gli piacevo tanto e vado a fare capito andiamo a fare l'interrogazione di storia inventata io non sapevo niente il mio compagno non sapeva niente come me io parto invento chiacchiero mi da otto otto e lui gli da quattro quindi un'ingiustizia divina però sì sai perché Sara perché io ero una capra a scuola e quindi ho sviluppato superabilità di inventiva sono un arrampicatore seriale sugli specchi senza protezione non hai dato fastidio Aurora non volevo dirti questo sai no 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 ho detto che insomma è stato un tono un po' particolare hai dato fastidio a me non hai dato fastidio a tutti però questo atteggiamento è brutto comunque è lo stesso Luca wow oggi ho ascoltato la diretta un'emozione nuova grazie Luca grazie mille per questa diretta grazie grazie Sabrina c'entra qualcosa con James Reason il discorso del sistema del cambiamento chi è James Reason aiuto non lo so Davide e beh la dinamica dei sistemi c'entra von Bentarlaffi che è un po' quello della della scorsa settimana c'entra un po' c'entra la la teoria generale dei sistemi a proposito ho finito il tuo libro lea 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 era un po' che non riuscivo a finire un libro e il tuo mi ha convinto a raggiungere l'obiettivo grazie Alessio bellissimo l'ultimo capitolo no il capitolo lo sapevo che eri un cervellone bello l'ultimo capitolo grazie che soddisfazione in questa tua esperienza in azienda grazie Eleonora questo è il bello del nostro lavoro anche solo un piccolo seme permetterà di cogliere i frutti bellissimo l'ultimo capitolo ragazzi è vero secondo me l'ultimo capitolo di facci caso è molto molto bello perché è personale come si fa a non volerti bene grazie Anna grazie mille per me è più facile capire per cosa si è negato per cosa si è negato scrive Luca più difficile il contrario chissà se ce la farò prima della pensione verissimo che credere nel destino ti esime da ogni irresponsabilità e scade in un fatalismo pericoloso tutto ciò ovviamente espone ancora di più una manipolazione altrui dell'attenzione bravissimo Luca bravo Luca genio l'errore umano l'errore umano l'errore è umano mettere un verbo a essere lì in mezzo Luca Eleonora hai ragione ci vorrebbero psicologi del lavoro in tutti i contesti lavorativi la necessità di interpellarvi però dipende dalla volontà da parte dell'azienda di migliorarsi partendo dalla da qualcosa però sì assolutamente sì allora ragazzi che dire abbiamo fatto come al solito quasi un'oretta siamo a 50 minuti di puntata io vi ringrazio perché siete stati presenti anche oggi mi dispiace con aspetta aspetta che vorrei aver dato l'idea di averti trattata male perché sei sempre stata brava e gentile Aurora ok quindi vorrei vorrei che vorrei che vedessi il nostro scambio non come un io io sono fatto così sono onesto io quando vedo che c'è della quando percepisco della puntigliosità in certo punto ve lo dico c'è poco a dire non faccio finta di niente non faccio finta di niente questo è il nostro club privato e per cui voglio che gli scambi siano onesti sinceri e aperti così come se visto sulle palle io me lo dovete dire o comunque mi dite se mi sono comportato bene o male io vi dico la stessa cosa consapevolezza che le dinamiche psicologiche hanno un effetto sulla performance e sulla gestione del team scrive Luca ottimo ah carana magari e se il tuo libro potesse parlare ti farebbe gli auguri oggi perché è un po' come il tuo come il pargoletto hai partorito un caso grazie che bello si sarebbe molto bella e si Luca e si allora ragazzi io vi ringrazio la puntata di voglio anticiparvi di che cosa parla perché mi dimentico sempre perché io le faccio molto tempo prima purtroppo Psinel è down ancora ve lo dico Psinel è down e questa roba mi fa arrabbiare tanto anche perché non è giusto mi fa arrabbiare perché non è solo l'incendio voglio non è solo l'incendio che ci impedisce impedisce di usare Psinel e sono anche quelli che ospitano il mio host e lo fanno male viva Aurora bravo grazie Gianna fantastico come sempre peccato solo essere arrivata tardi De nada Simone tanto c'è la registrazione allora di che cosa parla la puntata la puntata ragazzi parla di parla di alcuni studi fantastici parla di questo tema parla di tipo fallaccia del talento tipo fallaccia del talento alcuni studi molto belli che ci dimostrano come degli studi che dimostrano in modo ineluttabile come certe volte avere più vantaggi ad esempio avere più consigli rende peggiore la performance partiremo da quegli studi da due studi molto interessanti di psicologia e discuteremo di quell'argomento Zac sei arrivato tardi grazie a te collega sempre un piacere allora Zac sei arrivato tardi dura fino siamo già sette minuti più avanti è una domanda sulla meditazione quindi ti ricordo Zac che se vuoi fare tutte le domande che vuoi sulla meditazione iscriviti gratuitamente al nostro gruppo Clarity meditazione scientifica che trovi su facebook lì puoi fare la tua domanda e insomma lì ci aiuta a volte più e meno eh sì ragazzi un abbraccio a tutti e ci vediamo scusa sono una lei ah scusami lei scusami Zacchi scusami allora cara scrivi su facebook ok scrivi su facebook cerca Clarity gruppo di meditazione dove che cosa faccio prendo le domande più più importanti e periodicamente faccio un video dove rispondo in diretta alla tua domanda ok a presto ragazzi buona giornata a tutti ci vediamo domenica per questa puntata con questi studi fantastici buona giornata grazie a tutti